Cristiano Giuntoli si trova di fronte a una grande sfida con poco tempo prima dell'apertura del mercato. Arkadius Milik, un giocatore il cui rendimento oscilla tra momenti di eccellenza e altri di bassa performance, apparentemente non dimostra interesse nell'uscire dalla Juve, e questo è un problema per il club. L'attaccante ha ancora due anni di contratto e Giuntoli vuole venderlo e sostituirlo con un attaccante più giovane e meno costoso. Ma la situazione è complicata, Milik sembra non voler lasciare la Juventus. In questo momento, Giuntoli sta pianificando un incontro con l'agente del giocatore per trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte. Sinceramente, penso che dovremmo vendere Milik, poiché è un attaccante molto incerto, a volte segna, a volte passa lunghi periodi senza segnare. Inoltre, anche la sua età è un problema.